E' il rintocco di mezzogiorno a segnare la vita del centro di Lusiana. Sabato 26 febbraio alle 19 le campane rintoccheranno un altro triste momento. Spegniamo tutto perché siamo veramente stanchi, non ce la facciamo più. Marina Ronzani gestisce la tabaccheria di Lusiana. Alla difficoltà di vivere in un paese di montagna si sono aggiunti non solo i rincari. Tutta la situazione, il covid, le restrizioni, il green pass, non c'è gente che gira per Lusiana. Certo che tutto influisce, la bolletta, l'acqua, la luce, è un po' tutto, non c'è gente. Come lei tutti, circa 70 commercianti del comune, frutto dell'unione di Lusiana e Conco, con le otto frazioni e le varie contrade. Negozi a servizio del paese e dei tanti anziani che lo popolano, che sono già preoccupati perché dopo dieci anni è pronta a chiudere anche la fruttivendola che cerca qualcuno a cui cedere la sua attività. Il cartello io spengo in tutte le vetrine dà voce alla paura di tutti. Oggi fare impresa nel nostro territorio a Lusiana è molto difficile, è proprio un'impresa. E sabato vogliamo proprio fare il funerale del nostro lavoro. Io spengo, è proprio un'iniziativa che vuole mettere al centro la morte delle realtà imprenditoriali piccole che sono tipiche della nostra realtà. Un funerale vero e proprio, con tanto di cuscinetto già pronto, con la scritta Qui muore la montagna. Ci sarà proprio il funerale con la musica da funerale, eccetera, eccetera, dove metteremo su questa cassa i registruttori di cassa e il POS a simboleggiare proprio la chiusura delle attività. Luci e vetrine spente, spente l'illuminazione del comune, in piazza tante fiaccole. Chi Lusiana la vive da sempre guarda con amarezza. Da 55 anni gestisce tre attività, qui la signora Caterina, innamorata del suo paese e della sua aria buona, ci confessa che se dovesse rifare la scelta, adesso forse sarebbe diversa. Non vedi nessuno alla sera a un certo punto, voglio proprio di chiudere alle 6 e non aprire più.